salve a tutti e ben trovati nel nostro vlog come ci eravamo detti fin delle prime puntate vlog vuole essere anche uno strumento di supporto una prosecuzione del lavoro che abbiamo compiuto io e mio padre per il libro le guerre di carta 2.0 dedicato al gioco di simulazione nello specifico storico ma più in generale al gioco di simulazione supporto perché perché nel libro ovviamente non abbiamo potuto inserire tutto il materiale che era a nostra esposizione sul quale avevamo lavorato relativamente alla nostra indagine sul gioco di simulazione e una delle parti che effettivamente non è rientrata all'interno del del libro ma che comunque avevamo avevamo comunque concepito è quella relativa agli altri generi dei giochi di simulazione nello specifico al gioco di simulazione fantastico cosa significa gioco di simulazione fantastico a differenza del gioco di simulazione storico il gioco di simulazione fantastico non ha ad oggetto una situazione effettivamente accaduta nel passato o che anche che si sarebbe potuta accadere cioè un'ipotesi cosa sarebbe successo se i tedeschi avessero invaso l'inghilterra nel 1940 in quel caso rimaniamo comunque nel gioco di simulazione storico anche se parliamo di una ipotesi chiamiamola così però rimaniamo sempre nell'ambito di una realtà storica possibile il gioco di simulazione fantastico invece ha ad oggetto eventi che sono per loro natura impossibili o appartengono ad altri mondi che sono diversi dal nostro i generi principali del gioco di simulazione fantastico sono quelli della narrativa fantastica quindi andando molto per semplificare sostanzialmente due il fantasy e la scienza nell'ambito del fantasy e lo sappiamo noi ci troviamo in mondi di possibili passati o altri presenti nei quali domina l'elemento della magia di nuovo andiamo molto a semplificare comunque vi sono delle forze sovrannaturali all'opera nell'ambito della fantascienza invece ci troviamo in altre epoche che possono essere molti avanti o anche molto all'indietro però nelle quali l'elemento del impossibile è determinato da un'altra forza che è la tecnologia di nuovo sempre andiamo avanti per semplificazioni ma come vedete qui l'elemento principale è quello del imponderabile ossia un elemento che non segue le normali regole della nostra della nostra realtà di qui l'appartenenza al genere fantastico e anche il genere fantastico appunto ha dato i numerosi esempi e continuo a darne anche oggi numerosi esempi di giochi di simulazione perché un gioco di simulazione fantastico certo avrà come riferimento una realtà diversa da quella materiale da quella fattuale però segue tutte le altre regole del gioco di simulazione quindi deve descrivere una situazione una situazione che deve essere coerente che deve essere se non realistica quantomeno plausibile non deve inventarsi cose che non hanno senso nell'ambito del mondo che ha che ha descritto tanto perché ci facciamo qualche esempio di titolo beh intanto nell'ambito del fantasy partendo un po dai grandi titoli del passato noi partiamo abbastanza presto con dei giochi di simulazione fantastici però diciamo la grande esplosione c'è negli anni 70 ovviamente il riferimento principale in questo campo all'inizio almeno è l'universo tolkieniano del signore degli anelli abbiamo war of the ring della spi a firma di richard berghe ma poi successivamente l'esplosione del genere fantastico naturalmente anche tramite i giochi di ruolo quindi la diffusione dei giochi di ruolo crea anche stimola la produzione di giochi di simulazione fantastica secondo alcuni a detrimento dei giochi storici perché molte ditte con cominciano a produrre soprattutto giochi fantastici che sono più flessi in più vendibili rispetto a quelli storici che richiedono un po di preparazione in più e sono meno appunto vendibili però a parte queste polemiche che in alcuni casi hanno anche un senso in altre un po meno però a parte a parte questo arriviamo negli anni 80 e il genere fantastico varie simulazioni ma soprattutto ha un enorme esplosione con il fenomeno warhammer ma qui andiamo nell'ambito del tridimensionale cioè il gioco per miniature warhammer che ha warhammer fantasy e warhammer 40.000 più di recente il genere fantastico anche dopo la riedizione del signore gli anelli del 2003 dei dei film e tutto il resto ovviamente ha una ulteriore risorgenza di titoli per esempio appunto si rifà la guerra dell'anello questa volta fatta da aras games ma se andate in un qualsiasi negozi di giochi trovate moltissime simulazioni anche su tabellone relative al genere fantastico l'altro grande genere è la fantascienza la fantascienza naturalmente anche lì comincia presto cominciano presto ad esserci giochi di simulazione dedicati ai grandi universi fantascientifici penso per esempio grandi classici della fantascienza fanterie dello spazio e anche altre starship troopers quindi ma anche giochi di simulazione sui viaggi sui viaggi nel tempo time tripper successivamente a questo arriviamo ovviamente con il grande fenomeno di guerre stellari e lì si apre un po un mondo sia per giochi che sono direttamente su licenza di guerre stellari e soprattutto sono quelli della west end games battle for endor assault on off e soprattutto bellissimo star warriors duelli tra caccia di guerre stellari ma poi soprattutto abbiamo il grande esempio della compianta fasa che era una grande casa editrice degli anni 80 che fa titoli che in molti ricordano ancora oggi e giocano per alcuni sono stati rieditati battle tech e il ciclo della renegade legion tutti caratterizzati da un'ambientazione molto bella molto particolarizzata e anche molto realistica poi naturalmente andiamo avanti arriviamo a giorni d'oggi in cui abbiamo di nuovo sia la licenza diretta di guerre stellari casi come rebellion e altro sia la licenza l'altra grande licenza della fantascienza che star trek fleet captains in tutto questo vi sono anche numerosi giochi italiani giochi di simulazione fantastici ad opera di un grande marco italiano che mi piace molto ricordare che è la international team che da subito si distingue per affiancare a simulazioni storiche anche piuttosto dettagliate ottime simulazioni fantastiche cito due nomi zargo slorts e septima legio quindi due nomi che facendo un po di ricerche o già li conoscete con un po di ricerche vedrete che hanno avuto un seguito notevolissimo dopo tutti questi esempi però allora la simulazione fantastica quali sono i suoi le sue caratteristiche principali abbiamo visto utilizza il sempre le stesse dinamiche della simulazione storica tuttavia ha necessità per questo proprio perché utilizza le stesse dinamiche della simulazione storica ma non ha una realtà storica di riferimento alla quale agganciarsi se la crea interna il gioco di simulazione stesso ha bisogno di una coerenza abbiamo detto di una coerenza maggiore di un rispetto maggiore della coerenza inoltre risulta di solito molto più accessibile perché si basano spesso le ambientazioni anche anche quelle ben fatte ben realizzate tendono a lavorare molto sugli archetipi buono cattivo o comunque sia su alcune categorie di creature che sono già ben definite l'alieno il drago il mago sono appunto degli archetipi alle volte anche un po degli stereotipi che sono molto riconoscibili a differenza della realtà storica che se io non so che cosa è successo nell'aprile del 1918 la battaglia del kaiser nella prima guerra mondiale devo andarmelo un po studiare per capirlo ma se io mi trovo di fronte a elfi e orchi piuttosto che una certa una certa razza aliena con navi stellari e caccia più o meno già mi so mi so muovere quindi sono molto accessibili sono quindi molto vendibili e molto semplice relazionarsi con questi giochi però proprio per questo motivo c'è molto spesso il rischio che questi giochi cadano un po nella commercializzazione nelle mode e quindi che vadano un po a inseguire i gusti del pubblico a scapito della qualità generale del gioco il che significa attenzione che è ben possibile fare ottimi giochi di simulazione fantastici e ne sono stati realizzati di ottimi solo che è più difficile rispetto ai giochi di simulazione storici perché devono mantenere integra questa realtà di riferimento che loro il rapporto tra gioco e realtà di riferimento che loro stessi hanno creato che non ha dei supporti materiali infine l'ultimo grande problema l'ultimo grande problema a mio modo di vedere dei giochi di simulazione fantastici e che tendono un po la de responsabilizzazione in che senso nel senso che molto spesso nei giochi fantastici si esagera ci sono grandi armi grandi incantesimi grandi effetti e quindi in una sola mossa io posso distruggere un intero pianeta oppure in un ambito di una battaglia con solo incantesimo uccidere un interi reggimenti di orchetti e quindi faccio delle vittime e quindi effettivamente continuo a combattere ma sento meno il piso della responsabilità perché queste creature oggettivamente non esistono e quindi non ho quel rapporto con delle vittime reali con delle perdite reali e questo può portare un po alla de responsabilizzazione cioè ad attenuare l'effetto che c'è nel gioco di simulazione del rapporto con una guerra con una battaglia con un conflitto reale e questo effettivamente da un certo punto di vista può essere un problema ora chiudiamo questa puntata come sempre con alcuni esempi oggi dedicati alla simulazione fantastica ai giochi di simulazione fantastici ce ne sono moltissimi uno ve ne faccio due il primo è relativo al fantasy ed è il trono di spade trono di spade fantasy flight games questa è l'edizione italiana molto bello un gioco strategico veramente particolare pianificazione simultanea il che significa che sono un po sono un po ossessivo compulsivo lo voglio mettere bene ecco orientato bene sia il coperchio la scatola dicevo si basa sulla pianificazione simultanea è ambientato nell'universo di George R. Martin del trono di spade appunto le grandi casate si combattono per il controllo del continente di Westeros e appunto per controllare questo continente pianificazione simultanea ognuno in segreto pianifica i suoi ordini e poi li si esegue più in maniera sequenziale il modello di base è sicuramente diplomacy un grande classico del gioco di simulazione ma qui l'esecuzione non è totalmente simultanea ci sono dei c'è una sequenza c'è un modo anche per variare questa sequenza eventi particolari eventi speciali personaggi tutta una serie di correttivi però è un gioco di simulazione anche con alcuni elementi notevoli come per esempio la necessità di mantenere una catena logistica adeguata per poter supportare i propri eserciti sul campo grandi possibilità di tradimenti grandi necessità di mediazione nessuno vince andando dritto da solo molto complesso non difficilissimo complesso nel senso buono cioè con molti elementi in movimento e questo per in fantasy per la fantascienza una novità una novità in arrivo tra qualche mese si chiama battlestar galactica starship battles ed è di andrea angiolino quelle che state vedendo sono alcune foto di anteprima dei dei prototipi di alcune partite che ho fatto con andrea e con altri amici ambientato all'universo di battlestar galactica il film di fantascienza se non l'avete visto andatelo a vedere perché anche se non vi piace la fantascienza è un film bellissimo combattimenti tra caccia tra astronavi appunto sistema sì quello di wings of glory e sales of glory quindi miniature con carte manovra abbiamo già visto quando abbiamo visto i vari tipi di miniature però con dei correttivi notevoli per esempio il i movimenti inerziali dei caccia che si girano e vanno indietro sono nello spazio quindi c'è anche un modulo atmosferico però buona parte dei combattimenti si svolge nello spazio spazio e personaggi e la loro evoluzione gioco di sistema di gioco di campagna insomma grandi novità non è ancora disponibile ovviamente è in fase di realizzazione ma penso dovrebbe arrivare tra non moltissimo e effettivamente ho avuto modo di giocarci ed è effettivamente veramente un bel gioco ed è un ottimo esempio di gioco di simulazione fantastico nello specifico fantascientifico veramente ben realizzato quindi questo è quanto anche per questa puntata non mi resta che salutarvi far dire ciao al micio eccolo qua il mio faramir che tanto prima o poi doveva venire qua su e eccolo qua il mio faramir che tanto prima o poi doveva venire qua su eccolo qua il mio faramir che tanto prima o poi doveva venire qua su